Un vasto campo di alta pressione interessa il Mediterraneo centrale orientale, tuttavia una depressione sulla penisola iberica tende a muovere lentamente verso Levante andando ad interessare le isole maggiori e i versanti tirrenici centro-meridionali della nostra penisola. In Toscana sabato 28 novembre molto nuvoloso coperto con possibilità di deboli piogge sulla costa, venti inizialmente deboli orientali nell'interno moderati di scilocco sulle zone costiere centro-meridionale in arcipelago ma tendenti a divenire da nord-est ovunque rinforzare, mari mossi soprattutto a largo, temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Sul territorio provinciale molto nuvoloso coperto con piogge di debole intensità, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 9, massima 14 gradi, in Valle del Serchio e zone montane minima 9, massima 14, a Via Reggio e sul litorale minima 11, massima 15 gradi, domenica parzialmente nuvoloso, migliora dal pomeriggio.